La pizza di Cracco, tu l'hai mangiata? Cioè, l'hai assaggiata? Lo sapevo, lo sapevo. Beh, guarda, ti voglio dire una cosa. Allora, intanto Cracco è un grandissimo chef, un artista, e quindi lui si può permettere di fare tutto quello che... E' quello... Ebbene sì. E' quello che penso anch'io quando ogni tanto mi capita di parlare con qualcuno che non è del mestiere, come non lo sono io, no? Però io tendo a fidarmi. Ogni tanto qualcuno che non è del mestiere va a mangiare in questi ristoranti stellati e dice, eh però era poco. Ma lì non è come andare da vostra nonna, è un'esperienza, no? Sai cosa? Allora, lì dalla sua non c'è stato il fatto che quella famosa foto non era bellissima la foto. Doveva fare come al ristorante giapponese, non fargli fare la foto. Hai capito? Esattamente. Doveva fare così, sì. Esattamente. E' la foto che intimidi. Però la pizza è molto buona. Immagino. Però comunque rimango dell'idea che andare da Cracco... Però da Cracco mangiare la pizza è come andare a darmani e fare l'orlo, cioè... No? Si! È poco! Camera con vista, senza vista! Camera con vista, senza vista! Ci facciamo spiegare da Marco come funziona. Allora, avete quattro minuti di tempo. Sì. Quattro minuti durante i quali dovrete ovviamente rifare il letto con tanto di coprimaterasso, piumone e cuscini. Sì. Dopodiché dovrete sistemare sul tavolino il set per il tè. Chiaro. E poi il momento per posizionare la Bibbia nel cassetto del comodino, perché siamo nel Wisconsin, quindi c'è la Bibbia nel comodino. In Italia ci sono le Bibbie? Sì, ci sono. E le mettono anche qua? Ok, perfetto. Poi ovviamente per rendere accogliente la stanza bisognerà mettere i fiori freschi nel vaso e poi il compito nel vaso con l'acqua. E poi il compito un po' meno nobile, ovvero sistemare gli asciugamani in bagno e mettere il rotolo della cartigenica. Ci penso io al bagno Bruno. Ok. Stai in una botte di ferro. Ok, quindi quattro minuti. Quattro minuti. Ci dai tu il via? Assolutamente. Prima dovete bendarvi. Bruno, prego. Ok, non vedo. Ci vedi Bruno? No. Non ci vedo. 3, 2, 1, via! Ok, partiamo. Partiamo? Partiamo? Hai lasciato da solo? Aspetta. Dove sei? Sono qui. Ci siamo. Partiamo dal letto. Ok.